se ti devo dire una canzone che mi piace tanto degli ultimi festival cioè non degli ultimi del festival e che proprio mi ha accompagnato tanto è l'essenziale di marco mengoni è un pezzo che mi piace tanto 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 tantissimo è bellissimo amico ancora oggi mi dà tante emozioni invece se ti devo descrivere un ricordo che ho del festival risale a un paio di anni fa all'esibizione di rita pavone che nonostante comunque la sua età nonostante il fatto che comunque abbia cantato tardi spesso volentieri tante volte le sue esibizioni sono state quelle che più mi hanno colpito per la grinta e l'emozione che ci ha messo quella donna proprio si vedevano le vene del collo che uscivano da quanto stava dando capito a me è una cosa che veramente mi ha segnato mi ha fatto dire cavolo se arrivo al festival io voglio dare questa impressione alle persone che mi guardano proprio ce la sto mettendo tutta voglio dare tutto e mi ha colpito ancora di più perché lei comunque un artista che ha fatto tantissime cose ha fatto già il suo comunque ha fatto una grande carriera e vederla ancora lì su quel palco con le vene che uscivano dal collo a cantare a squarciagola è una cosa che mi ha toccato molto me la ricorderò sempre io mi ricordo che mi avevano appena regalato il walkman e la canzone cioè per quanto quando ero più piccola c'era un rapporto strano con la televisione non era una che aveva il permesso di vederla molto però mi ricordo che la forza della solitudine di laura cioè io avevo otto anni nove anni andava alla scuola elementare e quindi mi trovavo con il walkman che mi avevano appena regalato a sentire la radio dice la sera già con la luce spenta per cercare di intercettarla alla radio quindi questo è proprio un ricordo di bambino in cui vedi uno e dici wow cioè sì cantare si può e oddio quante brava però devo dire che poi mi ricordo bene cioè mi ricordo il sanremo il sanremo di panariello perché ero ero lì era il periodo della della maternità cioè era il primo anno in cui mia c'era quindi era invece che la televisione proprio perché inverno quando i figli ti nascono a fine estate non c'è scordati di fare grandi attività d'inverno e quindi in cui l'avevo guardato con con molta attenzione per cui di sanremo soprattutto io ricordo gli interrogativi che già da sempre mi ero posta tipo ok questo è qua ora dove sarà tra un po ma non da un punto di vista cinico proprio di di come appunto non fosse sufficiente il festival con tutta la sua forza a ad assicurare un futuro un brano è un artista mentre invece quando l'artista e la canzone arrivavano oltre c'era tutto un altro film ecco bel momento di aggregazione familiare era anche il festival degli anni 90 che ritornava a essere uno spettacolo molto rilevante perché il festival ho anche studiato un po questa cosa attraversato diverse fasi fasi di crescita e anche fasi un pochino più in giù festival degli anni 90 ritornava a essere non era più in playback e ritornava a essere quello che è quello che conosciamo oggi e quindi era un momento di aggregazione sul divano perché i miei genitori effettivamente hanno sempre ascoltato musica italiana è stato sempre bello e divertente io sinceramente quello a cui sono più affezionato qua ritorniamo alla performance è quello è la performance le performance della terra dei cachi degli elio le storietese compresa quella velocizzata perché si facevano quella che oggi è la serata dei duetti invece si eseguiva un pezzetto della canzone loro l'avevano riassunta in un minuto mi sembravano degli alieni gli elio con tutti i trucchi costumi le parrucche però ecco a me che ero ragazzino in quel momento mi aiutavano a pensare fuori dalla scatola a pensare che sul palco possono succedere delle magie e non debbono solo succedere delle elogi alla normalità fare l'amore di mietta fare la perché era di mango che è un osso conterraneo tutte le volte che è andato mango l'aquila bellissima poi vabbè lisa luce poi si può dare di più morandi tozzi guarda una canzone per che ricordi aver consumato non ce l'ho io si chiudo gli occhi ho la faccia di pippo baudo o la sigla di sanremo quella storica para papa para quella lì e non ho una canzone in particolare onestamente è proprio tutto alla bolla sanremo che è magica e che ti prende così tanto che spesso poi sei bombardato e non riesci a mettere a fuoco come in questo momento sei bombardato dai ricordi e ora non saprei dirti una canzone onestamente luce di elisa tantissimo è stata una delle prime canzoni in italiano che ho cantato a casa in bagno però canticchiato e e poi per me l'aura nazionale con la solitudine è uno statement quella performance e devo dire anche adesso ripensando ma mood mi ha segnato molto in senso positivo è stato è stato una vittoria che che porta nel cuore per quanto per quanto non sia mia secondo me da lì le cose hanno iniziato a cambiare mi ricordo sanremo non ero ero piccolo ma non piccolissimo e mi ricordo anna oxa che uscì con vestita da un uomo con una borsa e truccata in maniera molto mascolina e la canzone era un'emozione da poco e mi ricordo che come sempre guardavamo sanremo seduti sul divano davanti a una televisione forse addirittura era ancora in bianco e nero quella volta e mi ricordo le espressioni di mio padre quando vide vide anna uscire vestita da uomo no perché ancora era una cosa come dire era molto avanti come gesto come 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 cosa e io lo guardo lessi nei suoi occhi un imbarazzo strano si guarda si girò verso mia madre mi ricordo quel momento lì non chiedermi perché però mi ricordo anche la potenza di quella canzone bellissima che ancora che ancora canto ogni tanto da solo non te lo nascondo il primo sanremo di cui mi ricordo c'erano gli statuto e il bassista degli statuto era stato testimone di nozze dei miei e quindi in realtà per me non è mai stato sacro era solo un programma televisivo in cui c'era addirittura un amico di famiglia a suonare quindi non l'ho mai visto così lontano da me sanremo è una fa parte della tradizione italiana televisive musicale però non l'ho mai visto con ammantato troppo da quest'aura di sacralità ho molti ricordi legati a sanremo mi ricordo quell'anno lì perché non ricordo perché è stato il primo mi ricordo i subsonica a sanremo mi ricordo i blu vertigo a sanremo mi ricordo i quinto rigo mi ricordo daniele silvestri in diverse occasioni ma max gazzè che canta una musica può fare mi ricordo tanti dei miei degli artisti che ho seguito che facevano loro stessi facendo una gran bella figura a sanremo e quindi quello è il motivo per cui io ho sempre avuto comunque stima del contesto sanremese perché sono sempre stato convinto che se ci vai a fare quello che sai fare e rimani te stesso è un bel posto non è sanremo che ti rovina sei tu che non fai te stesso che ti rovina